E una pagina molto molto tenera, nell'11 maggio 1958, Mer dice, recentemente, durante una meditazione, è successa una cosa molto curiosa. Non mi ricordo più esattamente quando. È stato in un'occasione in cui c'era tanta gente venuta da fuori. Perché il cortile era pieno. Dopo forse pochi minuti, al massimo, d'improvviso sento distintamente una voce alla mia destra dire OM. Così. Poi un'altra volta OM. Mi ha fatto un effetto. Ho provato un'emozione qui, gesto verso il cuore, come non l'avevo provata da anni e anni. E tutto, ma proprio tutto, tutto, si è riempito di luce, di forza. Una cosa assolutamente stupenda. Un'invocazione. E poi, per tutta la meditazione, c'è stata una presenza abbagliante. Mi sono detta, chi ha potuto fare una cosa simile? Non ero tanto sicura di essere stata solo io a sentire. E allora ho chiesto agli altri. Mi hanno risposto che sì. Era la nave che se ne andava. C'era una nave a largo, infatti. E durante la notte la nave se ne era andata. Questo deporrebbe a favore di quanti dicevano che era stata la nave a emettere quel suono. Ma per me era stato qualcuno. Infatti, ho sentito la presenza di qualcuno. E ho pensato, oh, se qualcuno, nel fervore del suo animo, ripetesse un suono così, in un silenzio ateo, potrei dire. Le persone che sono qui, infatti, hanno una tale paura di seguire la tradizione, di restare schiavi delle vecchie cose, da rifiutare tutto quello che somiglia tanto o poco alla religione. Proprio curioso, perché la mia prima reazione è stata disbalordimento. Com'è possibile che qualcuno, beh, sì, sono rimasta sbalordita, ma solo per un quarto di secondo o neanche. E poi, come che sia, se non è stato un essere umano, ma una nave, beh, allora è stata la nave a dire umano, ma era quella cosa, proprio quella cosa, nient'altro che un'invocazione. E il risultato è stato fantastico. La gente ha pensato subito che non era niente, solo la nave. Beh, anche se era una nave, allora è la nave che ha detto OM. Allora mi sono chiesta, se durante la mezz'ora di meditazione ripetessimo il mantra OM NAMO VAGAVATE, che abbiamo ascoltato l'altro giorno, che cosa succederebbe? Il mantra era stato cantato a lungo in un film indiano su Druva, proiettato al campo sportivo dell'Ashram, il 29 aprile 1958, in presenza di Mer, quindi pochi giorni prima. Ma, già, che cosa succederebbe? Cose così hanno un'azione sul mio corpo. Curioso, ma coagulano qualcosa. Tutta la vita cellulare diventa una massa solida, compatta, enormemente concentrata, un'unica vibrazione. Al posto di tutte le solite vibrazioni del corpo, non c'è più che un'unica vibrazione. Il corpo diventa come di pietra, tutto in un'unica concentrazione, come se tutte le sue cellule avessero... Mi ha fatto diventare completamente rigida e, quando è finita la scena della foresta di quel film, mi sentivo talmente rigida che ero diventata così. Gesto, una massa sola. E il 17 maggio 1958, in fondo, quando sarò perfetta, automaticamente tutto il resto diventerà perfetto, credo. Ma non mi sembra possibile diventare perfetta senza che dall'altra parte ci sia almeno un principio di realizzazione. Allora tutto va avanti così, così, un po' su e un po' giù. E noi camminiamo barcollando come ubriachi. E, molto interessante, il 30 maggio 1958, a proposito delle forze avverse. Mi sono accorta di una cosa, cioè che per la gente, 99 volte su 100 almeno, è una scusa bella e buona. Ho visto, in pratica, che per quasi tutti quelli che mi scrivono sono violentemente attaccato dalle forze avverse, è una scusa bella e buona. Il fatto è che ci sono cose nella loro natura che non vogliono cedere. Così loro ne danno tutta la colpa alle forze avverse. In fondo io mi oriento sempre di più verso qualcosa in cui la funzione delle forze avverse si ridurrà alla funzione di un esaminatore. Voglio dire che queste forze stanno lì per mettere alla prova la sincerità della ricerca spirituale. Sono elementi che hanno una loro realtà nell'azione e per il lavoro. È questa la loro grande realtà. Ma appena si supera una certa zona, tutto questo si affievolisce al punto di non essere più così netto e categorico. Nel mondo occulto, o piuttosto a guardare il mondo dal punto di vista occulto, le forze avverse sono estremamente reali. La loro azione è estremamente reale e concreta e certo il loro atteggiamento nei confronti della realizzazione divina è di ostilità, bella e buona. Ma appena si supera questo livello e si entra nel mondo spirituale in cui non c'è più nient'altro che il divino, il quale è ogni cosa, dove non c'è più niente che non sia divino, allora quelle forze avverse diventano parte del gioco globale e non possono più essere chiamate forze avverse. L'ostilità è allora solo un atteggiamento che hanno preso, o per essere più esatti, è solo un atteggiamento che il divino ha assunto nel suo gioco. Questo fa ancora parte di quelle dualità di cui parla Sri Aurobindo nella sintesi degli yoga. Sono dualità che si riassorbono in se stesse. Non so se abbia parlato anche di questa, non mi pare, ma si tratta sempre della stessa cosa. Si tratta ancora di un certo modo di vedere. Sri Aurobindo ci ha parlato della dualità personale-impersonale, Isvara Shakti, Purusha Prakriti, ce n'è anche un'altra, il divino e l'antidivino.